Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale e continuiamo con Super Mario 3D World in compagnia di Domenico come sempre Allora qua ci entriamo un attimo alla webcam Domenico tu stai fermo lì che non te se può vedere Non perché sei brutto ma almeno tu puoi entrare qua E si parte e andiamo a fare zattere insidiose notturne Questa l'abbiamo anche fatta ma è di notte E ci sarà meno tempo di nuovo Un altro livello di merda Che cos'è sta roba? Sono i così fari Sono i fari ma i fantasmi non dovrebbero morire con la luce I fantasmi muoiono con la luce questi maledetti Devono morire male tutti quanti per la seconda volta tra l'altro Perché sono già morti i fantasmi Beh dai faccio io Il fantasmino grosso 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 Guarda quanti più Io non so neanche dove sei E io sono morto Magari marta l'arma in noi Va bene Sai già cosa succede che Ma sì ma ce ne sono altre di zattere No no Sì ce ne sono altre zattere Prenditi la luce va Che insedi un cacchio Sto posto da merda Sì ma salta bene che Mamma mia Dai 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 Ok 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 Vabbè abbiamo lasciato un'intera Ma chi se ne frega Uccidiamo tutti quanti Beh poteva essere molto più difficile questo gioco Questo livello in realtà E invece lì c'è una stella Guarda che bella La stella Marcon di rondi rondella Chi è che si butta per la patria Vai tu Ah aspetta 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 Vado io Ah 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 Ed era la seconda Bene abbiamo già perso una Molto bene Guarda quante stelle si è inchiappettato Mariolino Ammazzali tutti Sono arrivati i 3-3 Beach on the beach Io sto parlando di cose che voi bambini Non potete immaginare Non potete sapere Abbiamo finito sto livello Senza alcun tipo di problema quasi A parte il fatto che non riusciamo a salire questo Ai di cor Si è riuscito a fare più di Ma guarda lì Todd con pile Pile di monete Mortacci Suona nascostoli nell'ombra Ti potevi chiamare Fa un urlo Sta merda Va bene Abbiamo fatto niente Matti ci guarda dall'alto E dice Ma questi stronzi Hanno preso Ammala appena una stella Ma con la bandiera Sono riusciti a prendere Eh ragazzi Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto Ecco posso dire una cosa Almeno qui I mondi segreti Mortacci Suona ce li fa fare Invece di Super Mario Bros U Deluxe Che ti fa vedere Che c'è il mondo segreto Ma se non hai preso Le 3 monete Su tutti i livelli No Ma dici Se ne hai preso tipo 25 Ti tira via un livello No niente Qua bisogna toccare Quello Mazza oh che cattiveria Con sto gong Cosa facciamo adesso Andiamo di qua Andiamo di qua Uccidiamo Martyr Tu qua Mamma mia Non riesco a capire Dov'è C'è questo problema Di capire le distanze Sto giocando Una pallina questa Che devo fare Ah io volevo più Una pallina Occhio Grandissimo Adesso qua devi toccare questo Se riesco Ah se non distruggi Tutti sti cose Oh ma lasciami sta Lasciami perdere E di qua la pallina Che mi ha toccato Che il pezzo di fango Che mi ha toccato Guarda che Sto 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 Ci hai fatto passare No Arrivo Una palla in mano E non è quella Che c'è Nel pantalotto Guarda che bisogna Prendere sta roba qua Guarda Cosa fanno Sti due deficienti Li tirano In contemporanea E si annullano Siete proprio Furbi Siete quelli Furbi Della famiglia Vai Bravi Immagino Gli altri Pallo Palle ovunque, palle, palle, no, tieni le palle, tieni sempre le palle in mano, abbiamo aperto un passaggio segreto, vai, vieni, 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 palle, palle di fuoco, palle ovunque, vai, tira in calcio, no, guarda, ti rimbalzo, ho fatto una combo devastante, non ho capito bene cos'è, ma guarda qua quante palle ce so, qui stanno a dormire, state zitto, sei riuscito a farti uccidere da due funghi dormienti, aspetta, usa le palle, ma no, non me, hai detto le palle, si, appunto, e sembra che c'è una palla, continua a perdere vite come se fossero, no, lo so anch'io, eccoli, faccio io, va, aspetta, adesso devi rinascere, quando, ehi, aspetta un attimo, aspetta un attimo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ma no, aspetta, 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 tiraci la palla, tira la però, eh, tira la, oh, hai visto che si faceva, adesso hai preso pure la corona faccia di culo, andiamo va, tutto, 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 c'è il successo, oh, aspetta, oh, sì, ma ci sono le punte, ma non volevo più a te, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo, andiamo a spiare ancora quel, prendilo, 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 prendi il tempo, ok, quello è morto male, aspetta, 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 ne manca ancora una, ho distrutto il gongo, è presa, benissimo, aspetta che voglio, aspetta che voglio fare una cosa, aspetta che voglio fare una cosa, vieni, 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 vaffanculo, no, fai, pia, e pia sto cerchio di merda, niente, dovevo prendere tre monete, tre monete e sono morto, aspettami, 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 vai, 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 la pallina non te serve più, allora, cosa dobbiamo fare qua, occhio, eh, che dobbiamo prendere tutte le monete verdi, tutte le monete verdi dobbiamo prendere, non in questo modo però, ma perché ti sei buttato, dai cerco di resistere, era un cazzo, ma non mi so, non mi volevo buttare, è che, hai visto come si fa con queste, levati, io, ho fatto la culata invece di fare quello, porca vacca, hai già preso, no, non lo so, io non ho preso niente, è finito il tempo, bella, bella cagata che abbiamo fatto, aspettami, però, ma come mi sto facendo un cacchio, ero lì dietro, stavo a morire, oh, ma avete rotto le palle, cupa, e fammi, sono a sto cacchio del gong, è un'ora e mezza che ci sto a provare, vedi che c'era qualcosa, e ce n'è un altro dall'altra parte, ma perché mi hai preso tutte le monete, sei veramente un fan, va a fanculo qua, è la sopra, è la sopra, entra, entra dentro lì, guarda che entriamo là dentro, vabbè, piglia tutto tu, mortacci di Eva, vabbè, cagare, vai, adesso devi morire male, no, muori che andiamo a riprendere l'altra, eh, devi morire male, ma c'è un motivo, l'altra stella, mori, mori, eh, yeah, prendiamo un'altra vita, ma che cacchio, perché tanto ormai quella abbiamo preso, adesso dobbiamo fare bene e prendere questa, ok, allora, uccidiamo questi stronzi che mi hanno rotto, aspetta prima di prendere quello, eh, ok, abbiamo ucciso questi stronzi, un porco di culo, vi qua stronzi, vi qua, finché non uccidiamo quei, ma vabbè, grazie, Cuba, torno indietro, che cacchio fai lì, ma non così indietro, dai, dai, salvati, 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 almeno tu, dai, torno indietro, presto, torno indietro, presto, cosa, no, porca di quella, buttati giù, ma dobbiamo prendere questa stella, perché sennò non mi chiamo più Rocco, non lo so, non mi chiamo più Rocco, dobbiamo uccidere tutti sti qua che mi hanno rotto le scatole, tutti, perché sennò ti rompono, ti rompono le balle, non c'è niente, però uccidiamoli così, dai, bravissimo, bravissimo, abbiamo ancora questo, morto, quasi morto, ok, adesso, con calma, con calma, tu arrivi, ti aspetto, e prendiamo sto robo, eh no, vabbè, ma non dovevi, no, vabbè, vai, prendi tutti quelli, prendi tutti quelli, va, ma che cavolo, ma che stai a fa, ma non devi cadere, sono un pirla, sono un pirla, sono un pirla, lo so che ci vai a prendere le altre che sono lì, mi sono rotto le palle, mi sono rotto, andiamo avanti, frega il cazzo di questa stella, mi chiamo Moreno, vai, vai, niente dice perché ho deciso di chiamarsi Moreno, anche mi chiamo Moreno in due secondi, no, non è che, dai, salta, 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 salta due volte, brav, mazza, scosto, occupa, volevi, volevi morire, volevi darmi anche mille punti, ma martellata sui denti, ma tirato, che tolta che adesso parla così parla, questo pesce d'oro, guarda, ciao, vieni qua, ce la fai? Oh, che bel livello, come l'abbiamo completato bene, mamma mia, una stella del merda, oh, e possiamo andare avanti, possiamo andare avanti, io non è che ne abbia fatto in più di tanti, comunque, 3600, quindi te, pam, e adesso vediamo, e adesso vediamo, ah, è vero, c'è il livello delle ombre, e mi sa che nel gameplay dopo andremo a fare il livello della casa dei fantasmi, così ci cacchiamo sotto, da quanto fa schifo, ecco, un altro livello dove devi fare in fretta, e vai, e vaffanculo però, avevo piazza io, e muoviti, e Bowser è finto tanto, ma che cazzo fai, ma perché si è rientrato, cioè abbiamo poco tempo, sì però non c'è da niente per andare a prendere la stella lì, che passo da qua, bello, un appallonato di cannoni in faccia, ma dove so io, dove so io, mannaggia la miseria, mannaggia, oh ma salta, me ne frega niente, non me ne frega, vado a prendere la stella, vado a prenderla, vaffanculo va, quindi adesso, adesso dobbiamo tornare indietro, c'è una porta da qualche parte, cosa succede adesso qua, sta finendo il tempo, ma dobbiamo per forza prendere quello a fare, secondo me, abbiamo il boomerang abbiamo, sono finito qua, aspetta eh, eh nooo, faccio prenderla quella, adesso devo prenderla col boomerang, potevo prenderla, ecco perché è un po' scaduto, secondo me dobbiamo prendere soltanto le tre stelle, per finire il livello, eh prendi boomerang, sta ceppa, vabbè, questi qua ci togliamo un po' di gente dalle balle almeno, subito subito così, aspetta eh, andiamo a prendere qua, basta ti abbassati Todd, tacci qua, testa di palla, e sei morto, sei morto, sei morto, ah qua sono infiniti sono, no non sono infiniti, prima o poi devono morire male, vai a prendere la stella là sopra, vediamo che l'abbiamo già presa, torna indietro, torna indietro, dove cacchio se, vieni di qua, vieni di qua, ma nooo, nooo, ma, andiamo a prendere la stella, ahhh, ma da dove caccia, dal buco, siamo usciti dalla casa, dobbiamo salire qua sopra, allora, di qua, vai, ok, andiamo, vabbè, senti, finiamo questo livello, ha già rotto le balle, anche tu, eh, ti sei fregato, eh, volevi, e invece no, va bene, io direi che forse riusciamo a fare anche la casa dei fantasmi in questo gameplay, non importa, dopo ti dover una testata, da 3310, 4300, fatto culo, ho fatto, si, mandami, mandami, allora, andiamo, quanto amo le case dei fantasmi, mega vascelli fantasma, scusi, perché la chat lascerò? perché non siamo in live, ci domanda, vai, vai a prendere tutte le cose, ma, oh, dove so io? ma che è una folata di vento? e no, e no, e no, abbiamo anche il culo, ma, te la puoi andare a sedere, vai, ah no, quello, quello a fare là, no, senti, facciamo così, vai lì, dai, 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 vabbè, la tua moneta è merda, possiamo anche andarci, ok, andiamo a finire chissà dove, qua, ma io adesso mi piglio il fiore, no, non gli faccio niente, va, vai giù, vai giù, vai giù, oh, tutti tu li hai presi, sei un infamone, ma dove sei finito io? ho caduto, vai avanti, vai avanti, vai avanti, ma chi sta a perdere tempo, cioè, sei grosso, vai avanti, no? no, lui sta lì a perdere tempo, vieni, va, questo qua, a uno lasciamolo, ok, andiamo, vai, passa prima tu, perché sennò, se no, ciao, non è difficile così, perché sei grosso e non ti spot, non me ne frega niente della stella, non me ne frega, butta lì, butta lì, butta lì, butta lì, butta lì, ma morite male, vai, voglio giocare a calcio, biglio affedate tutti quanti, biglio affedate, vai giù cadi, perché sei piccolino, oh, vai giù, la prepotenza di tondo, te mori male e invece non l'hai fatto, occhio, una pallonata in pieno, ti sei preso in faccia, mazza sto pezzo di fango, mazza sto pezzo di fango, mazza sto pezzo di fango, ci ha provato, non si può ammazza sto pezzo di fango, ma va, 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 200, che ho fatto? ho fatto 200, ho fatto, ma pure, rompono le palle pure quando arriva la bandierina in sto mondo, di merda, va bene, se non c'è un livello tanto ostico, possiamo farne ancora uno, ma proprio veloce, rapido, rapido, si no, sicuramente, oppure se appare qualche bonus, andiamo a fare qualche bonus, cos'è sta roba qua, un Bowser, da uscire, 240, no, non ce la facciamo, 250, sì, ma non ce la facciamo a farlo per tempo, perché magari è lungo, va bene ragazzi, noi finiamo quel gameplay e ci vediamo la prossima volta con Super Mario 3D World e domani con un nuovo video, ok, ciao a tutti e grazie, ciao!